Sta accadendo qualcosa di straordinario nella tomba di San Padre Pio, un fenomeno che sembra sfuggire a ogni tentativo di spiegazione razionale. Vi invitiamo a restare con noi fino alla fine di questo video per scoprire un miracolo che vi lascerà senza parole. Ma, prima di arrivare a questo punto, ripercorriamo insieme la straordinaria vita di un uomo che ha segnato profondamente il destino di innumerevoli anime. Un uomo il cui legame con il divino ha influenzato per sempre il corso della spiritualità di moltissimi fedeli. Padre Pio, nato come Francesco Forgione il 25 maggio 1887, in un piccolo e modesto villaggio italiano chiamato Pietrelcina, fin da bambino mostrava segni di una spiritualità fuori dal comune. Le sue visioni mistiche, che lo collegavano in modo diretto al mondo celeste, li conferirono una speciale connessione con il divino. A soli 15 anni, animato da una fede incrollabile, prese la decisione di dedicare completamente la sua esistenza al servizio di Cristo. Entrò così nell'ordine dei frati minori Cappuccini, prendendo il nome di frate Pio. Da quel momento in poi, la sua vita divenne un cammino di fede, ma non privo di sfide. Sin dalla giovinezza, padre Pio si trovò a combattere contro profonde battaglie interiori, segnate da inquietanti visioni demoniache che cercavano di allontanarlo dal suo percorso di santità. Tuttavia, la sua fede non vacillò mai, rimanendo sempre salda come una roccia. Al contrario, con il tempo, il suo amore per Dio non fece che crescere, alimentato dalla sua devozione e dalle esperienze spirituali che viveva durante il suo cammino come frate. Durante la sua formazione, padre Pio sviluppò una straordinaria capacità spirituale. Riusciva a scrutare nel profondo delle anime delle persone, percependo i loro peccati nascosti e le loro sofferenze più intime. Questa dote, unita a una profonda empatia, lo rese un confessore estremamente ricercato. Gente da ogni angolo d'Italia e del mondo, intraprendeva lunghi viaggi solo per poter confessarsi con lui, sperando di ricevere da lui un consiglio divino e di trovare finalmente sollievo per le proprie anime tormentate. Ma ciò che rese davvero unico e venerato padre Pio fu il dono delle stimmate. Nel settembre del 1918, mentre era immerso nella preghiera davanti a un crocifisso, ricevette sul proprio corpo le ferite di Cristo, che portò per il resto della sua vita. Le stimmate non erano semplicemente segni esteriori della passione di Cristo, ma anche una fonte di dolore fisico e spirituale immenso che padre Pio sopportava in silenzio, offrendo ogni sua sofferenza per la conversione dei peccatori e la salvezza delle anime. Questa straordinaria unione con la passione di Cristo trasformò padre Pio in un simbolo vivente di fede, sacrificio e devozione incrollabile. Per 50 anni portò sul suo corpo le stigmate, i segni visibili della sua intima connessione con la sofferenza di Cristo. Ma il suo sacrificio non si limitava a queste ferite. La sua capacità di leggere nel profondo dei cuori umani e di riportare la luce nelle vite più oscure gli valse il soprannome di confessore del mondo. Nessuno poteva resistere alla sua capacità di comprendere le più intime sofferenze spirituali e in poco tempo la sua fama si diffuse ovunque. Il piccolo monastero di San Giovanni Rotondo, dove risiedeva, si trasformò in una meta di pellegrinaggio continuo, attirando migliaia di persone alla ricerca di una guida spirituale o di un miracolo. Nonostante la sua crescente popolarità, la vita di padre Pio non fu priva di tribolazioni. Spesso fu oggetto di critiche, sospetti e accuse. Anche all'interno della chiesa vi furono voci che mettevano in dubbio l'autenticità delle sue stimmate, con alcuni che lo accusavano di simularle. Diversi cercarono di screditarlo, ma nonostante le prove, padre Pio rimase saldo nella sua fede. Con una pazienza infinita e un amore immutabile per Dio, padre Pio sopportò ogni calunnia, offrendo le sue sofferenze in sacrificio. Il 23 settembre del 1968, padre Pio lasciò questo mondo terreno. Tuttavia, anche dopo la sua morte, la sua influenza continuò a crescere. Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II, lo proclamò ufficialmente santo, conferendogli il titolo di San Pio da Pietrelcina. La sua tomba, situata a San Giovanni Rotondo, divenne immediatamente un luogo di culto e pellegrinaggio, accogliendo milioni di persone alla ricerca di speranza, guarigione e conforto spirituale. Ma ciò che sta accadendo oggi presso la sua tomba ha un chedi ancora più straordinario. Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di pellegrini ha testimoniato esperienze che sfidano la comprensione razionale. Molti di loro affermano di sentire una presenza divina, un'energia inspiegabile che sembra superare le barriere del mondo fisico. Alcuni raccontano di essere stati guariti da malattie considerate incurabili, mentre altri riportano miracoli che non possono essere spiegati dalla scienza. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva da un gruppo di scienziati, spinti dalla curiosità e dallo scetticismo, che hanno deciso di studiare questi fenomeni più da vicino. Hanno esaminato un frammento di tessuto delle bende che erano state poste sulle stimmate di padre Pio, e ciò che hanno scoperto ha lasciato tutti increduli. Questo pezzo di stoffa, pur essendo vecchio di decenni, emanava un profumo dolcissimo e inspiegabile, senza alcuna spiegazione naturale plausibile. Nonostante i tentativi di trovare una risposta scientifica a questo mistero, le teorie avanzate rimangono vaghe e prive di fondamento, lasciando tutti ancora una volta meravigliati di fronte all'inspiegabile. Per molti credenti non ci sono dubbi. Quello che accade è un segno tangibile e inequivocabile della santità di padre Pio, della sua continua intercessione e della presenza divina che, attraverso di lui, continua a manifestarsi nel mondo. Tuttavia, non è solo il misterioso tessuto delle bende a sfidare le leggi della natura. Esistono innumerevoli testimonianze di fedeli che, pregando presso la tomba di San Padre Pio, hanno visto le loro preghiere esaudite in modi miracolosi. Ci sono racconti di persone gravemente malate, spesso in stadi terminali, che improvvisamente guariscono senza alcuna spiegazione medica. Storie di individui che, dopo anni di dubbio o lontananza dalla fede, ritrovano una nuova e profonda connessione con Dio, oppure casi di conversioni fulminee di chi era totalmente distaccato dalla Chiesa. Questi eventi ci ricordano che il potere di Dio è vivo e operante anche oggi, attraverso i Suoi Santi, e che la fede è una forza potente e vitale, capace di trasformare le nostre esistenze in modi che sfidano la comprensione umana. La storia di Padre Pio ci insegna una lezione importante. La fede è in grado di superare i confini del tempo e dello spazio. Sebbene viviamo in un'epoca in cui la scienza tenta di fornire una spiegazione razionale a tutto, ci sono ancora eventi che sfuggono a ogni logica e ci richiamano all'esistenza di un piano superiore, di una realtà divina che guida le nostre vite. Ma quale insegnamento possiamo trarre da tutto questo? La vera felicità non si trova nei successi materiali, ma nel mettere Dio al centro della nostra vita, così come fece Padre Pio. La sua vita è un esempio straordinario di come la fede, il sacrificio e l'amore incondizionato possano illuminare il mondo, portando speranza laddove c'è disperazione e luce dove regna il buio. Riflettendo sulla vita eccezionale di San Padre Pio, dovremmo lasciarci ispirare dal suo cammino e impegnarci a vivere una vita di fede sincera e di servizio agli altri. La sua storia ci ricorda che anche nelle difficoltà più grandi possiamo trovare conforto e forza nell'amore di Dio. Seguendo il suo esempio, possiamo onorare il suo lascito e continuare a diffondere il suo messaggio di speranza, fede e amore nel mondo. Se anche voi vi sentite sostenitori e devoti di San Padre Pio, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a lasciare un Amen nei commenti. Che Dio vi benedica!